Che è durato in questi anni e non solo gli uffici giudiziari, ho visto tanti presidi delle istituzioni spegnersi come le lucine dell'albero di Natale. Io adesso mi chiedo nel contempo da dove nasce questo spirito di fare le parate della legalità, di intestarsi la legalità come se fosse un valore. Forse un valore è l'onestà, la legalità più che altro è un metodo. Io ho visto chiudere un ufficio giudiziario con dentro le pratiche dei processi, le caracce fiscali, quello che tratterammo noi come giudici di pace. Contro un'ordinanza del TAR che l'ho impedita, mi sono trovato a scrivere una lettera all'assessore della legalità che non mi ha dato risposte sul perché questa cosa sia successa. E ripeto, tutte queste iniziative, questo intestarsi, battaglie crociate in questo momento mi fa pensare. Vi dico solo una cosa, che l'inganno è la peggior forma di tradimento che esista. E qua mi fermo. Grazie al giudice Fiorentino.